Grazie, e ora vorrei dare la parola a Cecilia Kienger. Per un minuto, prego. Grazie Presidente, grazie Commissario. L'eradicazione della povertà è il principale obiettivo della cooperazione allo sviluppo. L'azione esterna dell'Unione va di pari passo con le grandi sfide globali, in particolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Con l'adozione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, compiiamo un ulteriore passo avanti nella lotta alla povertà, sia sul piano economico, sia sul piano democratico, sociale e ambientale. Il nuovo ed ambizioso strumento darà la possibilità di avere una più grande forza e unità di intervento nel rispetto dei diritti universali della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, dell'integrazione socio-economica e della tutela ambientale. Tengo a sottolineare che unità non significa mancanza di diversificazione, anzi le priorità geografiche continueranno ad essere di grande importanza, come ad esempio per i nuovi accordi con i Paesi ACP. L'innovativa unità dello strumento porterà l'Unione ad avere ancora una maggiore influenza nello scenario globale, dove solo la risposta ferma ed olistica sarà efficace. Grazie. Grazie, onorevole Kienge. E ora passiamo alla procedura Catch the Eye. Do a tutti la parola. Onorevole Michala Sodrova, per un minuto, prego.